L'estate di Chieti entra nel vivo tanti gli eventi programmati per i mesi di luglio e agosto e si parte con questa cover band. Sì, tantissimi oserei dire sono gli eventi di questo cartellone istituzionale denominato Estate Tiatina 2022. Siamo alla seconda edizione di questo cartellone davvero molto ampio che comprende sette rassegne. Partiamo dai primi di luglio e arriviamo fino alla fine di settembre con gli eventi scalini. Adesso si parte con la rassegna delle band di Tiatini che si esibiranno ogni giovedì del mese di luglio presso il quartiere di Porta Pescara dove ci sono tanti locali della Movida, enoteche, vinerie, pub e ristoranti per animare quella zona caratteristica della città e soprattutto per trovare anche benefici presso le attività commerciali. Ma ancora avremo la Civitella con grandi nomi, avremo il teatro che dirà la sua con la stagione lirica, avremo le associazioni culturali di Chieti che animeranno anche questo cartellone, ma ancora avremo Chieti sotto le stelle, una rassegna concentrata sulla musica jazz con nomi internazionali. Insomma, siamo veramente soddisfatti del lavoro corposo che stiamo portando avanti. Quattro band storiche, si tratta dei Les Avages, dei Tim Foil, dei Lou Blues e del Pentagono. Quattro band assolutamente storiche, chi propone rock, chi propone prog, chi propone anche musica inedita. Quindi abbiamo voluto scegliere un po' le band che nell'arco della storia teatina musicale hanno dato e soprattutto hanno lasciato qualcosa. Ce n'è da sentire, io rinnovo l'appuntamento a Porta Pescara tutti giovedì, giovedì 7, giovedì 14, giovedì 21 e giovedì 28 luglio.